SABATO 10 SETTEMBRE 2022 Buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Sintonizzate sul canale 19 del digitale terrestre Tutta la regione Marche va in onda adesso In diretta, occhio ai giornali Il commento alla stampa del giorno Iniziamo con il santo di oggi Un santo marchigiano, San Nicola da Tolentino Spendiamo due parole su San Nicola da Tolentino Perché era davvero un grande santo Un uomo dedito a una severa astinenza Assiduo nella preghiera Fu anche molto severo con se stesso Pensate che quando qualcuno andava a confessarsi E faceva, insomma, confessava i suoi peccati E magari ne combinava, diceva di averne combinati tutti i colori Ebbene, lui imponeva a se stesso le penitenze altrui E al penitente gli dava qualche cosa di più leggero Questa era San Nicola da Tolentino L'alba alle 6.41 e il tramonto alle 19.29 minuti Oggi ci affacciamo sul mare E siamo sulla splendida spiaggia Con tanto di porticciolo adiacente A Marina di Gabisce Questo è lo scenario che si presenta in diretta Poco fa, prima di andare in onda Lo commentavo con Riccardo il regista C'era una piccola imbarcazione Che stava rientrando in porto E sullo sfondo invece vedete tutte le nuvole Cumulonembi Così si chiamano in termini scientifico E sono un po' come la panna La panna montata Vedete anche il faro qui davanti Che si accende e si spegne Eccolo qua Lo scenario di questa mattina Ma intanto vediamo il tempo per la giornata di oggi Come facciamo sempre Andiamo a dare una occhiata Una sbirciata Al bollettino meteorologico Redatto dalla Protezione Civile delle Marche Come vedete i simboli Indicano pioggia Pioggia soprattutto nel corso del pomeriggio Con locali rovescio temporali Anche lungo la fascia costiera Quindi saranno interessati i tratti Pesarese e Anconetano E altrove i fenomeni Saranno invece più deboli e occasionali Poi il tempo migliora Vedete anche per domani In realtà quindi il maltempo È stato un po' anticipato Sembrava che domenica Almeno stando nei giorni scorsi Alle previsioni elaborate Domenica doveva essere una giornata Un po' così così Non certo da mare Invece probabilmente Ecco vedete le cose sono cambiate Probabilmente domani Per molti potrebbe essere Un'altra giornata da trascorrere in spiaggia Poi lunedì invece Il 12 di settembre Mi pare che lunedì cominci la scuola Se lo ricordo male Si comincia un'altra attività Si cambiano un po' gli orari E il tempo sarà comunque buono Tutta la prossima settimana Sarà caratterizzata da condizioni Tempo stabile Diciamo del brutto tempo E oggi probabilmente Chi andrà alla fiera di San Nicola A Pesaro Dovrà fare i conti anche con Dovrà ricordarsi di portare l'ombrello E la fiera di San Nicola Occupa la fotonotizia Del carlino di oggi Il carlino ovviamente Edizione Pesarese Parte oggi appunto Al via la Tre Giorni In zona mare Tra bancarelle Gastronomia e navette Il titolo di questa fotonotizia È Una fiera coi fiocchi Con le immancabili cipolle Poi In apertura Comune Dirigente sotto processo Avrebbe venduto Beni per evitare il pignoramento Dopo una maxi condanna Della Corte dei Conti E il carlino Nelle pagine interne Anche quelle locali Dedica un po' di spazio Ad un giovane Principe Carlo Allora era ancora principe Quando approdò Alla corte urbinate Di un altro Carlo Carlo Bo Tra banchetti di pesce E acquarelli Le due visite reali Sotto i torricini Poi Scorrendo il giornale Rimanendo sempre Sulla prima pagina E allora Vediamo le notizie in breve Riccia D'Ascoli Per Curti Giusto premiare Il PD Piceno Poi la senatrice a vita Liliana Segre Festa da Alceo Per i 92 anni Quindi al ristorante Rinomato per il pesce Poi furto del Rolex Dopo l'abbraccio In due sotto accusa Ma sono spariti Un colpo Praticamente da 10.000 euro E poi Nel quartiere Di 5 torri A Pesero Ancora incendi Identificati però Due giovani A fuoco Un'auto E Un cassonetto Dei rifiuti Lo sport Come sempre Qui sotto Di taglio basso Delfino con l'Argentina Voglio il titolo A 40 anni E poi Sotto al San Bartolo E verso Fano Un aereo E un sommergibile Praticamente Sott'acqua La guerra In fondo Al mare Il Corriere Adriatico La fotolotizia Che ha deciso Di pubblicare Il Corriere Il giornale delle Marche È sempre appunto Riferito a Re Carlo Re Carlo e le vacanze Marchigiane Tutte le sue visite Da Leopardi A Raffaello E in mezzo Anche due spaghetti Ai moscioli Questo è un giovane Principe Lo vedete qua Al centro Con al fianco Carlo Bo Insomma Anche il Corriere Questa mattina Decide di Far vedere I suoi lettori Un po' Rinfrescare la memoria A coloro Che magari Ecco Se lo fossero dimenticato Oppure C'è anche chi Non lo sapeva per nulla Insomma Ecco Questa visita Importante Se vogliamo Anche Dell'attuale Re Carlo D'Inghilterra Incubo Rincari Invece Per chi aiuta Il caro Bollette Ha ripercussioni Ovviamente Anche Sui servizi Offerti Dalle associazioni Da quelle Che vengono definite Insomma Il terzo settore In difficoltà Soprattutto Che si occupa Di trasporti Sociosanitari Già ritoccate Infatti Le prime Tariffe Poi Sempre a centro pagina Una gara Europea Per il progetto Del San Benedetto San Nicola La fiera Torna in grande E punta il record E poi a Fano Elena La lupetta Che vuole diventare Madre Nuovi roghi notturni Caccia agli incendiari Allarme nella zona Le cinque torri Ancora un ride Hanno dato fuoco A un cassonetto A un auto Poi un ricercatore Dalla finanza Siero Dovete indagare Qui si parla Dei vaccini Lo vedremo Tra un istante E a proposito Di vaccini Ecco qua Invece Di spalla Un altro Articolo Con domande e risposte Pubblicate Sul Corriere Chi può prenotare Il vaccino Antico Omicron Tra l'altro Leggevo sulla Repubblica Di ieri Non che io legga La Repubblica Ma me l'hanno inviata E quindi Un dato sorprendente E davvero Mi ha lasciato Sconcertato C'era questo Articolo In cui si diceva Che gli italiani Che non hanno Nemmeno la prima dose Sono 15 milioni E 200 mila Contro i 3-4 milioni Qui ci hanno fatto credere Fino a ieri L'altro Praticamente Io sapevo Perlomeno così Ci hanno sempre detto Che i cosiddetti Novax Erano 4 gatti Quindi 3-4 milioni Su 60 Insomma Che siamo in Italia In realtà Ieri Repubblica Ha pubblicato 15 milioni E 200 mila Italiani Quindi spiega tanto Questo dato Poi bisogna vedere Se Visto che ci hanno mentito La prima volta Bisogna capire Se questi 15 milioni Non sono Addirittura il doppio Ma comunque Per ora Ci limitiamo A 15 milioni Di italiani Che hanno deciso Di non vaccinarsi Per dire Insomma Ecco Tra le tante cose Insomma Ecco Allora Quando il re arrivò Da principe Invece È la notizia Che Troverete Sulla pagina Del Corriere Adriatico Di oggi Le vacanze Di Carlo III Tra Leopardi Raffaello E Spaghetti Ai Moscioli Le tappe in giro Per le Marche Del nuovo re d'Inghilterra Ancora oggi È docente Onorario All'Accademia Di Urbino E qui È davvero Insomma Un giovane Giovannissimo Carlo Principe Carlo Qui lo vedete A Palazzo Leopardi Poi a Monte San Martino E a pranzo Da Emilia Andiamo avanti Vediamo invece La pagina di Urbino Del Cardino Di Pesaro Quando i due Carlo Si strinsero la mano L'allora principe E oggi re In visita ad Urbino Per due volte Nel 1988 E nel 1990 L'indimenticabile incontro Con il Magnifico Rettore E dunque Le due volte Di Carlo Urbino Era il 10 maggio Del 1988 Quando Il principe Carlo D'Inghilterra Giunse ad Urbino In forma privata Per una visita Alla città di Raffaello Di Federico Da Montefeltro Sicuramente L'erede Al trono Del Regno Unito Di Gran Bretagna Irlanda Era a conoscenza Degli ottimi rapporti Della casa reale Britannica Con Urbino E' sufficiente Ricordare Che il duca Federico Era stato Insignato Da Reding Ditter dell'Ordine Della Giarrattiera Insomma Poi c'è tutto il racconto Di Giancarlo Di Ludovico Poi Appunto Tra i ricordi La visita di Rito Alla casa di Raffaello Bodisse Giovanotto simpatico Lo defini proprio così Il rettore Magnifico Giovanotto simpatico Allora Adesso invece Sulla pagina Del Corriere Adriatico Oggi Luigi Benelli Racconta Scrive Di questa Denuncia Di un ricercatore Quindi Non uno sprovveduto Ma un ricercatore Che chiede Di indagare Sulla composizione Dei vaccini Medico Ascoltato Per quattro ore Dalla finanza La denuncia Del ricercatore Verte Sull'ipotesi Di reato Di somministrazione Di farmaci Non conformi E dunque Si parla di questi vaccini A MRNA E la denuncia È stata presentata La scorsa primavera Da un medico E ricercatore Che ha portato Lo stesso A essere sentito In questi giorni Dalla guardia di finanza Segno che il fascicolo È stato aperto Dunque E ora si va avanti Con gli accertamenti Naturalmente Lo ascolta La guardia di finanza Per conto Della procura Di Urbino E Secondo Appunto Questo Ricercatore In base A quanto riportato Nella sua denuncia I vaccini Sono ritenuti Pericolosi Perché non è Controllabile La loro Meccanica funzionale È un articolo Molto interessante Che vi invito A leggere E Così Per farvi Un'idea La pagina Di Fano Invece Del resto Del Corriere Adriatico Si occupa Di scuola Scuola Ritorno all'antico Spazi come prima Del covid Gli interventi Più significativi Realizzati alla primaria Montesi Nel quartiere Di Sant'Orso Dunque Si parla Della riorganizzazione Degli spazi Interni Di diverse scuole Di Fano Sulla base Dei criteri Che valevano Prima della pandemia E nel corso Dell'estate È stata effettuata Una serie Di interventi Su diversi edifici Per realizzare Un sostanziale Ritorno Alla normalità Dopo che lo stato Di emergenza È di fatto Decaduto Alla fine Del marzo Scorso Verebbe da dire Dopo che lo stato Di emergenza È di fatto Decaduto E lasciando tutto Così com'era E questo È l'articolo Comunque Che può interessare Sicuramente le mamme Che hanno i figli Piccoli Che dovranno andare Prossimamente All'asilo Fuori strada Invece La cronaca È un tamponamento Contro un tir Tre feriti Un rovinoso Fuori strada Di un'automobile Ieri intorno Alle 15.45 A Magliano di Fano A prensione Per la conducente Fanese Di 76 anni Residente in zona Che è stata Trasportata Al pronto soccorso Dell'ospedale Santa Croce In condizioni Definite Di codice Rosso Cosciente La polizia locale Ha accertato Che la vettura Ha sbandato Verso destra Ed è uscita di strada Poco dopo Una nota Cantina vinicola Entrambe le ruote Poi sono finite In una piccola scarpata Ed è finita Vedete Nelle fotografie Qualcosa si capisce Si intravede Insomma Ecco Sono due incidenti Una che è uscita Fuori strada E una invece Vicino Vicino Alla In superstrada In superstrada Fano Grosseto La pagina di Fano Invece Del resto del Carlino Si occupa Di abbonamenti Autobus Anche questo È un altro problema Soprattutto per le famiglie Che insomma Hanno i figli Che devono andare a scuola Necessariamente Con l'autobus E quindi Devono fare Necessariamente Anche un abbonamento E quindi pagare Soldi Per ottenerlo Code infinite E anche rabbia Una mattinata infernale Alla stazione di Fano Dove c'è Lo spazio Il punto Per fare Questi abbonamenti 40 persone Di fatto In fila Per ore Perché il balcomat Non funziona Da una settimana E giustamente In molti dicono È una vergogna Altre grane dunque Scrive Tiziana Petrelli Per Adriabus Riguardo al pagamento Degli abbondamenti scolastici Per il trasporto pubblico Sulle spalle Delle famiglie Infatti Non pesa solo Il salasso Per i rincari E l'impossibilità Perché anche questo Anche questa è una vergogna Di rateizzare il pagamento Cioè bisogna pagare tutto Stop Non c'è storia Non si può rateizzare E esclusivamente Pensate In contanti Ok Cioè da una parte Ci fanno una testa così Perché vogliono eliminarlo Paga con la tessera Così non ti contagia A destra e a sinistra Adesso invece qui Solo in contanti Per pagare l'abbonamento Bisogna pagare in contanti Infatti il bancomat È rotto Da molti giorni Come si legge Anche sul sito Dell'azienda Ora cosa ci vorrà A cambiare un bancomat Non lo so Comunque Questo è Anche perché adesso Te li vendono pure al supermercato I post Quelli che No Possono essere utili I piccoli commercianti Te li vendono pure Veramente al supermercato Adesso non voglio fare La pubblicità Le marche Eccetera Però insomma Non credo che sia così difficile Riattivare un bancomat Anche provvisoriamente Magari Non dico che Deve uno per forza Vabbè Comunque Monopattini gratis E sconti Per cene di pesce Fino a domenica Tenere l'auto In garage Conviene La settimana europea La navigazione Nell'area Tra peso De fano Dal porto E a 250 metri Dalla riva E ad una profondità Di 5 metri Per cui Con una maschera Lo si vede anche Scendendo in apnea Si può vedere Questo Questo relito Io credo è bello Affascinante davvero Per chi ha anche Un po' di coraggio Oltre che il fisico Ci siamo Ci sono tanti relitti Scrivono ancora Quelli del club Ci sono tanti relitti Sparsi in mare Persino un cannone Bisognerebbe finanziare Una ricerca Ma soprattutto Anche Insomma La possibilità Che ne so Se è possibile Anche di recuperarli Perché no Anche per tenere Un po' più pulito il mare Elena invece Parliamo di Elena Chi è Elena? Elena è una lupacchiotta Quella che è stata catturata E liberata Nei giorni scorsi Una lupacchiotta Che vuole diventare mamma Abbiamo adesso Questa favoletta Attorno a questa Questa storia Per questo Aveva lasciato i genitori Trovandosi però Intrappolata In Sassonia Elena aveva deciso Di mettere su famiglia Si era quindi Staccata dai suoi genitori Incamminandosi Alla ricerca Di un territorio per sé E quindi Si era Si era rifugiata Possiamo dire così Perché sì Di fatto Si era rifugiata Insomma Nella zona di Sassonia Siamo nella zona Mare Della città di Fano E in tanti L'avevano vista Avvistata Poi non si sapeva ancora Che era una Era una femmina Quindi insomma All'inizio c'era tanta paura Poi insomma Tutto sommato Almeno dai racconti Non aveva dato problemi Non è che aveva Azzannato Galline Polli E quant'altro Stava lì tranquillo Ogni tanto Ecco Però giustamente Poi non poteva stare Vicino alle case Anche per una questione Di sicurezza Lì passa la ferrovia C'è il treno Che passa Ogni tre per due Quindi insomma Hanno pensato bene Dopo tanto tempo Forse troppo tempo Di prenderla Catturarla In maniera dolce Come si dice Senza traumi E poi Metterla in una gabbia E liberarla In una zona segreta Tanto per dare ancora Più fascino A questa A questa notizia Che sta diventando Una fiaba Fra un po' Arriverà anche Nonna Capuccetto rosso Insomma Va bene Comunque Bello così L'importante è che la lupa Stia bene E che diventi mamma Il più presto Poi mamma invece È inviata Qui parliamo di una donna In carne ed ossa NBC di guerra È un'inviata Della NBC Che è una rete statunitense Una grande rete televisiva Statunitense Parliamo Da Urbino Del premio Che ogni anno Viene consegnato Ad un giornalista Di spicco Degli States E questa volta È toccato a Courtney Cube Che è stata premiata In una cerimonia A Washington Dall'ambasciatrice Zappia E dai sindaci Gambini E Berloni Insomma ecco Questo è un po' Il racconto di Eugenio Gulini Questa mattina Sul Corriere Adriatico Poi c'è la cronaca Sempre su questa pagina Di Urbino Crolle il tetto Del magazzino Macerie finite Sul pulmino Manufatto e mezzo In disuso L'area È già stata messa In sicurezza Siamo in chiusura Questo è l'ultimo articolo Della nostra rassegna stampa Ciao estate Chiudono i primi alberghi E sull'autunno Pesa il salasso bollette Manfredi I costi mettono in difficoltà Le strutture In pochi Saranno quelli disposti Ad aprire Ciao estate Ciao a tutti voi Grazie per averci seguito Io non so se rientrerò In rassegna stampa Perché come sapete Ormai Sono in uscita Quindi tornerà L'amico Massimo Foghetti Dalla prossima settimana È stato giustamente In ferie Quindi Tornerà Qui a condurre La rassegna Per quanto mi riguarda È stato un piacere Grazie E buona giornata A tutti Grazie